Sì, va fino al 1944, Togli, Sleva, Nicaroschi, un sacco di turisti, ma soprattutto otto chilometri di protettissime saline che fanno di rendicare un posto utile da questa parte. Per parlare dell'importanza di questa riserva, ma tutto visto nel cielo e della terra, devo dire così, il dottor Paolo Centro. Allora, vi indico. Un posto sicuramente affascinante. Pensate che in 1250 ettari ci sono qualcosa come 500 specie di piante, tra cui una quindicina di orchide selvariche. Ma vendica è riconosciuta soprattutto come l'albergo dei bucelli, perché voglio ricordare che da qui transitano 252 specie di uccelli delle 500 presenti in Italia, e quindi un luogo fondamentale come tappa migliore degli uccelli. Quanti visitatori all'anno? Ma siamo nell'ordine delle 3400 di la presenza, è un numero importante, moltissime scuole, grazie anche all'intergestore che ha fatto un'ottima politica di promozione e soprattutto di conservazione di questo sito, perché voglio ricordare che siamo passati dalle 46 specie edificanti all'istituzione della riserva, alle 58 podierne. All'istituzione della riserva